Parliamo di malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi sostanzialmente la malattia di Crohn e la colite ulcerosa e della loro relazione con i tumori col dottore Renato Canizzaro, direttore della struttura operativa complessa di gastro-oncologia presso il centro di rifiamento oncologico di Aviano e attuale presidente della FISMAD, cioè della federazione che raggruppa tutte le società scientifiche di gastroenterologia. Senato Canizzaro, come mai in un centro oncologico vi occupate di IBD, di malattie infiammatorie croniche intestinali? Noi sappiamo che le malattie infiammatorie croniche intestinali, il Crohn e la colite ulcerosa hanno un rischio di neoplasia. Linee guida non recenti ci indicano il fatto che quando una colite ulcerosa totale ha una durata di più di 10 anni il rischio incomincia ad aumentare e bisogna fare una conoscopia di controllo ogni due anni. Il rischio è alto dopo 20 anni e raggiunge circa il 40-50%, quindi è indicato un follow-up endoscopico curato in questi pazienti. Ma pare che i dati stiano cambiando. Ecco, come mai c'è questo aumentato rischio? Qual è la relazione tra l'infiammazione cronica e l'insorgenza di cancro? La flogosi cronica può essere un rischio per lo sviluppo della displasia, che è la condizione precancerosa che porta verso il cancro ed è quella su cui noi miriamo la nostra attenzione per fare una prevenzione secondaria corretta con l'asportazione laddove si può, sia endoscopica che chirurgica, per evitare che si sviluppi una neoplasia avanzata. Ecco, vediamo prima l'aspetto diagnostico. Come si fa a capire in tempo che qualcosa sta cambiando in peggio? Che test utilizzate? Allora, naturalmente per la colituccia rosa la colonoscopia con tutte le metodiche attualmente in uso, la cromoendoscopia, anche l'NBI si può usare, c'è delle colorazioni elettroniche e si affaccia a questo armamentario endoscodiagnostico l'endomicroscopia che ancora è fatta in pochi centri ma che ci può dare immediatamente una definizione di alterazioni cellulari verso la neoplasia. Per quanto riguarda il tenue invece, per il cron le tecnologie ormai sono ben consolidate, la capsula endoscopica e poi l'enteroscopia che ci permette di fare delle biopsie. All'enteroscopia possiamo associare anche della ecoendoscopia con mini-sonde e infine anche qua eventualmente l'endomicroscopia. Quindi diciamo che l'armamentario diagnostico è piuttosto importante. Veniamo invece alla terapia. Quando si scopre la displasia cosa si fa? Si asporta chirurgicamente e in che modo? La displasia, se è una displasia di alto grado chiaramente l'intervento chirurgico è proponibile, deve essere un intervento chirurgico radicale come per la colituccia rosa. Quindi qua è importante una discussione del gruppo multidisciplinare perché il chirurgo deve sapere che non si può fare una resezione locale ma spesso si va incontro a resezioni maggiori, più importanti come la colectomia proprio per la malattia sottostante. Quindi è importantissimo il controllo endoscopico e importantissimo il gruppo multidisciplinare che affronta questo tipo di patologia. E intervenendo in tempo con una diagnosi precoce il tumore si riesce appunto a controllare, a evitare che appunto si manifesti in tutta la sua brutalità? Sicuramente, è la condizione di prevenzione secondaria cioè nei gruppi a rischio, noi sappiamo che questi due gruppi sono ad alto rischio e in questo modo riusciamo ad ottenere delle lesioni piccole e quindi facilmente con una sopravvivenza a 5 anni del 90%, quindi diciamo che c'è la guarigione se arriviamo in tempo. Il panorama però epidemiologico sta cambiando, stanno uscendo fuori degli studi un po' sembrano contraddittori ma in realtà ci danno una grossa speranza perché pare che ci sia un calo di incidenza delle neoplasie su malattie infiammatorie croniche intestinali. E noi naturalmente pensiamo che questo sia dovuto al migliorare della diagnosi e soprattutto al migliorare delle terapie. C'è le terapie appunto antiinfiammatorie che sono tante, appunto tenendo sotto controllo la malattia riescono anche poi a impedire la sua evoluzione. Esattamente, l'evoluzione verso il tumore e quindi è particolarmente importante che i malati affetti da patologie infiammatorie croniche intestinali siano seguite dal loro specialista, cioè dal gastroenterologo che sa impostare correttamente i controlli endoscopici e anche una terapia che quindi in questo caso è antineoplastica, può essere antiproliferativa con gli svolti importanti per la sopravvivenza.